Oggi sta andando? Perfetto Buola ragazze sono qua Ancora noi Perché mi è successo adesso Siamo qua in questo nuovo video Perché oggi volevo spacchettare Un pacchetto Da 50k No 62.000 Che cazzo si Un pacchetto da 50k E se ti riuscirò a trovare Di Wandowski Ragazzi spacco tutto Vabbè a parte di scherzo Lo potrei anche vendere ma Se lo trovassi Mamma mia già venduto 23.000 k Mamma mia Ecco già vabbè Già venduto Caleion invece per 23.000 k 85.000 k Però sono male Vabbè noi andiamo a aprirci un bel Pacchettino ragazzi Quel pacchettino come si deve Poi scrivo qua Vai 50k 50k proprio qua Guarda 50k 50k Ericsson Ericsson Per 50k Devo spendere per Ericsson Porca tua ragazzi Veramente Mamma mia Che merda Che merda Veramente Merda di pacchetto Non ci credo Non ci credo Non ci credo raga Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel commento Comunque Se vi è piaciuto Lasciate un bel commento È solo di un minuto Quasi due Allora Comunque Se vi lasciate un mi piace Lasciate un bel commentino E si vedo il mio canale Ragazzi Buola a tutti Grazie